Il dispositivo antiabbandono è davvero utile. Oggi vi parlo del dispositivo antiabbandono e del perché accadono certe cose. Io sono Zuleika, ho un negozio per bambini, dispositivo antiabbandono li vendo, quindi attenzione, all'erte, io non sto cercando di vendere assolutamente nessun dispositivo antiabbandono. Ma voglio andare semplicemente a capire, a farvi capire, perché certe cose accadono e perché dispositivo antiabbandono molto spesso non ve ne considerano. Partiamo dall'inizio ragazze. Allora, come dicevo, è un negozio per bambini, quindi noi le mamme le conosciamo da quando praticamente sono in gravidanza. Di solito quando si fa la lista, la lista nascita ormai è molto in voga, cosa succede? Noi diciamo sempre, da tre anni a questa parte, di mettere all'interno della lista nascita il dispositivo antiabbandono perché è legge e perché non si sa mai nella vita. Vi dico la verità, all'inizio i primi due anni è stato molto difficile, infatti i dispositivi antiabbandono nelle liste erano davvero molto pochi. Ultimamente da una netta a questa parte invece si iniziano a me. Ma voi lo sapete il perché ragazze? Ve lo spiego subito. Una mamma di solito nella prima gravidanza pensa giustamente, inconsciamente ragazze, infatti noi vi blocchiamo sempre quando dite questa cosa e c'è la solita frase. Ma come fai a dimenticare tuo figlio in macchina? Ma infatti tu non te lo dimentichi ragazze, in queste situazioni tu non dimentichi tuo figlio, tu sei convinto fermamente di averlo accompagnato, di essere andato da altre parti, sei convinto. Questo perché magari una donna gravida ancora che non ha figli può giustamente non comprenderlo. Cioè io vi capisco, quando si hanno figli e soprattutto si lavora o si hanno tante tante cose da fare, accompagna quello, accompagna l'altro, vela, 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 succede che il cervello fa le cose per ruggire. Quindi, come in questo caso, il signore si è anche organizzato con la moglie perché andasse a prendere la bambina, perché era convinto di averla portata a scuola. Ad esempio, a me capita di sbagliare strada quando prendo la bambina a danza, io devo andare al lavoro oppure devo andare a casa. Faccio completamente altre strade, faccio tutt'altro, faccio la strada che faccio di solito, quando devo andare ad altre parti. Cos'è, ho perso la memoria? No, semplicemente mi convinco che devo andare al lavoro, quando invece magari devo andare a casa. Cosa succede dall'altra parte? Quando si mette in lista, adesso magari di meno, ma all'inizio, ragazze, il parente, l'amico, gli sembrava brutto regalare il dispositivo antiabbandono. Perché mica si scorda suo figlio? Ma ragazzi, il problema, voi non dovete partire che vi dimenticate vostro figlio, voi vostro figlio non ve lo potete dimenticare. Cioè, magari quel papà stava pensando, mentre era al lavoro, alle manine paffute della bambina, al suo sorriso, non può dimenticare. Però il cervello fa brutti scherzi e può capitare anche al più preciso dei precisi, ragazzi. Quindi ragazze, per concludere, io ovviamente alle future mamme non vi voglio spaventare, ma vi voglio mettere in allerta nel dire che nessuno è perfetto. Come si dice, la mente è un filo di capello. Si può sbagliare, però questo è un errore che costa la vita. Non solo di una bambina, ma anche la devastazione dei genitori. Quindi io chiedo a tutti di non giudicare. Ripeto, a me dell'acquisto, se lo acquistate, dove lo acquistate, non mi interessa. Non è per questo che sto facendo il video. Io sto dicendo, stiamo tutti attenti. Anche guardiamo, diamo occhi anche alle altre macchine. Perché magari, chissà se possiamo aiutare qualcuno che in quel momento ha bisogno di aiuto. Detto questo, fammi sapere tu che ne pensi. Ciao, da Baby.